Il Ludobus Art in Gioco è un'attività di gioco itinerante. Noi proponiamo di restituire alle piazze, ai luoghi delle città, degli angoli di benessere per le famiglie e i bambini. Dal Ludobus escono delle attività, ma anche un momento di relax e di condivisione, ed è quello che noi vogliamo portare come messaggio. L'altro messaggio che noi portiamo in giro con il nostro furgone carico di giochi è quello che si può giocare semplicemente, con materiali naturali che non hanno bisogno di installazioni particolari. Tutti i nostri giochi sono autocostruiti ed ecosostenibili e per noi è fondamentale lasciare lo spazio migliore di come l'abbiamo trovato, quindi senza lasciare traccia del nostro passaggio. L'unica traccia che lasciamo è il rumore che crea il gioco fatto dai bambini. E quindi siamo felici che sempre più spesso ci chiamano ad animare manifestazioni in cui il gioco è sempre stato visto come un'altra cosa, magari come lo sport, come il teatro, ma mai con un'attività prettamente legata al gioco, solo gioco per tutti e per tutte le fasce d'età. Noi abbiamo giochi per bimbi dai 2 anni ai 99 anni, di tutte le caratteristiche, giochi di ingegno, giochi di movimento, giochi di precisione, rompicapo, perché proprio vogliamo restituire questa idea del gioco, che in piazza si può giocare con cose semplici tutti insieme e nessuno è escluso.